Baccio a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video Qua sul mio canale oggi siamo con un gioco che non ho mai portato e lo stanno portando tutti Quindi mi sembrava un po' in dovere, mi sembravo in dovere di portare questo gioco E parliamo di Among Us proprio come vedete qua E andremo a fare qualche partita online E se questo video vi piace porterò anche con i miei amici Quindi andiamo subito ragazzi E' un po' scherzo Però questo gioco si chiama potete Ah ragazzi, un po' di italiani Oh si, bruciutto e tipo brand ragazzi Vieni un po', vieni un po' Crewmate Allora, non so se sapete come si gioca questo gioco E' un gioco dove tu sei in una nave, come potete notare E dovete, se si ha dei crewmate dovete completare delle missioni E se questa barra qua finisce Avete vinto voi prima che vi uccidano gli impostori Invece se siete degli impostori dovete Uccidere tutti i membri dell'equipaggio Senza farvi naturalmente scoprire E vabbè qua ragazzi Mi sbaglio sempre Vedete perché sono scarso Allora Devo andare in admin a swappare la card dopo Quindi in admin già si sia Ma potemi fare almeno Ragazzi Tripla No, bruciutto Come, blu Scriviamo Vediamo un po' Se è veramente il blu In seguri Ti l'ho trovato Io ero in admin Vediamo se dice che è il blu Guarda ragazzi Mi tocca buttarlo fuori E di operando Ma non mi dicono Io voto il blu E vabbè ragazzi Se voto il blu Se voto Che te devo dire Se voto il blu Dai la prego Voti lei Voto fu No ragazzi Perché 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 il bianco ha votato a me Ragazzi Se l'impostore È veramente incredibile E ok Chi è che l'aveva incolpato Sospetto Sospetto Ok Dai Ragazzi Ah Igor Dormiti Igor Giti Oh sì Oh sì I'm The imposter Ma Quanto è veloce No Questa non la faccio Perché Se no Mi scoprono Se vengono A vedere Che non faccio I modi Che non Spara Quindi Quindi Questa si può fare Ok Vediamo se c'è qualcuno qua C'è qualcuno qua Kill Ok La troviamo Where Non mi ha potuto vedere Non l'ha mai visto Mai Blu No Come blu ragazzi Non ho neanche votato io Oh Non ho votato Ok Mi tocca Fatto tutto da solo Ragazzi Oh Se mi posso Va bene Devo fare Tutto da solo Quindi Andiamo qua Andiamo in Admin A sveppare la card Così Chiudiamo La La sveglia Diciamo così Ok Card sveppata Qualcuno Riesce Non ho niente da fare Andiamo in O due A fare la task Direi 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 O due Task Ok Fat E Carazzi Sto me la devo giocare bene Sto me la devo giocare bene What? Perché l'emergenza? Allora Non so perché Abbiamo chiamato l'emergenza Gliel Ma Con quale Con quale prova? Con quale prova? Mi scusi Con come Come Perché? Perché io? Ma 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 No ragazzi No 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 Però Criometti No No Ragazzi Voglio fare l'impostore Allora Andiamo un po' a vedere No No Doce Andiamo dopo Andiamo a aprire l'electrical Che ne abbiamo due Allora 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 Facciamo prima questo Dei cavi Ok Ok Cavi fatti Downloadiamo E vabbè Subito Ma dai Ma fatemi fare qualche task Ah Scriviamo Vediamo Per favore Scrivete Non abbiate paura Non abbiate paura Ma no Come fai Come fate a votare Bismarck Light cream Ragazzi Ce l'hanno con Bismarck Mi dispiace Bismarck O l'hanno visto Cioè Spero l'abbiano visto Perché Accusare così Ok Ok L'avete visto L'avete visto Allora Facciamo questo No Non me l'ha presa Ok 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 Fatto Poi Dobbiamo andare in caffetteria Vedevo A fare l'ultimo cavo Quindi Rosso Blu Giallo O non lo prendo Ok E viola Andiamo Med Peso Colore yellow No Vabbè Troppo forte E fare Questa versione qua Delle foglie Quello mi uccide Sono sicuro Ok Non mi uccide Dai Prendi le foglie Quello mi uccide Sicuro Ok Non mi uccide Quindi Viola Bianco Sifo Quindi Viola Bianco Sifo Am Non mi uccide adesso Ah Viola e bianco Sei Furti Le parole famose Ragazzi Viola e bianco Sei Fucito Ah Veramente Veramente Una merda Ragazzi Non si può fare Non si può fare Dai Omo Come fate A non trovare il cadavere Aspetta Prima fammi finire la tasca E poi potete trovare il cadavere Così almeno Quitto No Non me l'ha fatta finire Posso fare l'ultima partita No C'è Grimit Oh si Impostore Finalmente Allora Andiamo a vedere un po' Posso fare la task In admin No Ok Quindi vado A fare la carta in admin Però Facciamo anche O2 Perché Anzi Sembra che poi Ci incastrano Insomma Non è una cosa bella Ok Quello lo fa Ma che cosa sta facendo Per Vabbè A noi non ci importa niente Insomma Allora Quello così Ok La cosa però Adesso andiamo a fare Questa fake task Allora Intanto provo a sabotare Qualcosa Allora Allora proviamo a fare questa E sabotiamo Credo il reattore Vado a sabotare Sì Andiamo al reattore Vediamo chi la fa con noi Magari possiamo incolpare qualcuno dopo Vediamo Vediamo Chi c'è qua Sotto non c'è nessuno Ok Quello sotto va il verde Io vado sopra Ok Reattori fatti Oh siamo tutti qua Quattro persone qua Allora Dalle security Dalle cam Non si vede niente E Abbiamo vinto Easy Abbiamo vinto Troppo facile Abbiamo vinto Di nuovo Ragazzi Beh Che dire Di nuovo Impostore Allora Va in admin Pure stavolta Va Allora Non lo so Gianlu Non lo so Che cosa Che cosa sta succedendo So solo che Eh La velocità È molto lenta Ah no Devo fare una missione qua Ok Allora Stiamo qua Oh 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 Hanno sabotato Hanno sabotato Andiamo Ho due Qui Ok 6-0 6-0 6-8-0 Si Stavo a sabotare qua Ok Ho levato la sabotazione Si può dire così Come si dice Qual è il contrario di sabotaggio Boh Allora Questo Non ho visto Ok C'è un corpo Ho trovato il corpo In caffetteria E non so Chi sia stato Caffetteria For me When you're Caff Green Perché Green Skip Skip You stupid Oh regà Io skip Gianlu comunque Sono di nuovo L'impostore Ah dato che Tu non sei in partita Ti volevo dire Che sono di nuovo L'impostore No no Lo so Lo so Due partite su due Impostore Allora Una ghille L'ho fatta Dove fare un'altra Dobbiamo vincere L'impostore Perfetto Allora C'è da fare Una finta Task qui Emergenza A caso Chiediamo Perché L'emergenza Vediamo un po' Vediamo un po' Cosa dicono Orange juice Ma Ma che vuole da me Ma Ma non ho fatto niente Di I'm voting red Mi scrivo pure io No ragazzi Oh sì Oh sì Abbiamo vinto Yes L'impostore Perfetto Easy Gianlu Easy Vittorio Incredibile E vanno a vincere Victory Va bene ragazzi Per questo video è tutto Spero che il video vi sia piaciuto Ragazzi Mi sono divertito Mi sono divertito Come un gas Prima da solo E poi in compagnia Del mio amico Gianluca Di Airshowbat Insomma Ci siamo divertiti E spero che il video vi sia piaciuto Vi ricordo Like, iscrizione E campanellina E ci vediamo Con un prossimo video Di Di Among Us O di Blue Stars O di qualcosa Insomma Bella